All'Aquila siamo partiti con la raccolta differenziata proprio durante il terremoto, l'abbiamo fatta nelle tendopoli, la continuiamo a fare. Un consiglio da Alberto Cavallo, uno dei massimi esponenti nel settore della raccolta differenziata. La raccolta differenziata è prima di tutto, e dobbiamo non dimenticarlo e ricordarcelo, in realtà un servizio a noi stessi per dei prodotti, dei materiali che sono alla fine di un nostro processo di consumo, quindi diciamo che un po' ci assomigliano, forse anche la ragione sociologica per cui non vogliamo averne a che fare, li abbandoniamo. In realtà le aziende e le amministrazioni che offrono servizio alle città, questo fanno, cioè portano via quello che noi non vogliamo più, ma l'importanza di portarli via in modo separato significa dare nuova vita a dei materiali, qui alle spalle abbiamo per esempio il Tetra, perché è un materiale prevalente matrice di carta, quindi fibre molto buone che possono rivivere sotto altra forma, in particolare sotto altro cartoncino nello specifico. Allora è importantissimo fare bene la raccolta differenziata perché dopo c'è un'economia, oggi si parla molto di economia circolare. Noi in Italia, avendo poche materie prime, siamo quasi costretti a cimentarci con il riciclo e con l'economia circolare. Significa dare posti di lavoro, significa proteggere l'ambiente in senso di consumare meno risorse, ma anche per le industrie essere più competitive, perché risparmio di energia e acqua, che sono materie prime molto onerose e quindi sono più competitive sul mercato globale. In un momento un po' complicato, ma in realtà in un momento in cui tu riorganizzi la tua vita, puoi riorganizzarla prendendo una nuova abitudine. In fondo una volta presa l'abitudine, fa la differenziata in un'abitudine molto semplice, quindi basta proseguire.